Oggi è veramente stato un piacere aver potuto ospitare due personaggi appunto delle squadre nazionali qui a livello ticinese e quindi è stato veramente emozionante anche vederli sulla gestione della carrozzina che non è proprio così evidente. Questa esperienza di oggi è stata molto interessante, molto positiva perché trovo sia importante mettersi anche in condizioni differenti a quelle che abbiamo ogni giorno, uscire dalla comfort zone e scoprire come lo sport in qualsiasi ambito può unire, può far divertire, può portare passione ed è quello che è successo oggi. Questa esperienza, giocare a basket oggi con gli inseparabili è una cosa veramente bella, molto interessante e una cosa che mi ricordo per sempre. Oggi è una cosa che mi ricordo per sempre, è una cosa che mi ricordo per sempre.